La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è indagata dalla procura di Torino per falso in relazione al bilancio 2016. Il reato nell'ambito dell'inchiesta sull'area ex-vestingousi, per un debito fantasma di 5 milioni di euro verso REM scomparso dal bilancio 2016. L'indagine era stata aperta nei mesi scorsi in seguito a un esposto dei capigruppo di opposizione Alberto Morano Lista Morano e Stefano Lorusso PD. Con Appendino è indagato anche Sergio Rolando, l'assessore al bilancio.immediato il commento della prima cittadina sono assolutamente serena e pronta a collaborare con la magistratura, certa di aver sempre perseguito con il massimo rigore l'interesse della città e dei torinesi. Appendino dice di desiderare di essere ascoltata il prima possibile al fine di chiarire tutti gli aspetti di una vicenda complessa relativa all'individuazione dell'esercizio di bilancio al quale imputare un debito che questa amministrazione mai ha voluto nascondere. Per quanto mi riguarda massimo garantismo anche per lei, noi non siamo grillini, commenta il senatore PD, Stefano Esposito.l'inchiesta, aperta dal PM Marco Gianoglio, riguarda l'area ex Vestingouse e i 5 milioni di euro che il comune di Torino avrebbe dovuto restituire a REM, partecipata della fondazione CRT che nel 2012 aveva acquisito il diritto di prelazione sull'area. La somma non è stata però versata, né iscritta a bilancio ma considerata come un debito fuori bilancio. Una scelta contestata dalle opposizioni in consiglio comunale.